Sono Marta Comi, Presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi. In questo periodo è molto importante che tutti rimaniamo il più possibile a casa. Villa Greppi vi fa compagnia. Per la prima volta potrete seguire le dirette della nostra programmazione culturale. Restate a casa, seguiteci su villagreppi.it. Fermiamo il virus con la cultura.